Ciao, oggi vediamo un mini circuito composto da quattro esercizi total body per tonificare un po' tutto il corpo ma con particolare attenzione alla gamba e al ginocchio. Se non lo sai sono stata operata circa dieci anni fa di una rottura al menisco e il crociato anteriore e grazie agli allenamenti con il funzionale e il corpo libero sono riuscita a recuperare completamente diciamo la mobilità e la forza. Quindi adesso io ti propongo qualche esercizio utilizzando la banda elastica o comunque l'elastico anulare. Se non ce l'hai puoi anche utilizzare una banda elastica e formare praticamente un cerchio. Partiamo subito saranno 30 secondi di lavoro 10 secondi di recupero per due volte eventualmente puoi anche ripetere il circuito per altre due volte per diciamo completare un po' il tuo allenamento. Partiamo subito. Quindi primissimo esercizio elastico alle caviglie. Andiamo a fare il side band quindi piedi paralleli andiamo ad aprire la gamba lateralmente quindi stringo fortissimo l'addome il ginocchio rimane bene disteso e la gamba appunto è parallela una all'altra. In questo modo andiamo a rinforzare tutta quanta la parte laterale quindi il tensore della fascia lata che va a tenere saldo il ginocchio quindi anche se hai avuto rotture del menisco crociato quindi questo è un ottimo esercizio proprio per rinforzare la muscolatura e quindi rinforzare anche l'articolazione. Ok il prossimo esercizio è un plank tocco spalla per cui da qui andiamo a lavorare con gli addominali e le braccia. Ci mettiamo in plank, stringo forte addome, tocco la spalla alternata. Stringimi forte 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 la pancia, toccami la spalla quindi non sbilanciarti troppo con il bacino e eventualmente me lo puoi anche fare mantenendo la posizione in statica. Comunque se ce la fai portami bene la mano verso la spalla opposta. In questo modo andremo bene a rinforzare il core e anche appunto la parte alta. Quindi stringi, stringi, stringi bene la pancia. Ok perfetto da qui andiamo a metterci schiena a terra, piedi bene in appoggio, solleviamo la testa e andiamo a fare degli addominali toccando l'esterno del ginocchio con la mano quindi stringo bene l'addome, inspiro e fuori aria. Quindi mi allungo bene in obliquo e vado bene qua. Quindi stringimi, stringimi la pancia. Quindi in questo caso come puoi notare sono le ginocchia non hanno nessun carico e in questo modo andiamo comunque a tonificare l'addome. Vai, spostati bene lateralmente, obliqui, bene qua che lavorano. Quindi abbiamo lavorato prima con il core e adesso con gli obliqui. Ultimo esercizio elastico sopra il ginocchio andiamo a fare il ponte più apertura quindi andiamo a salire, salgo, apro, chiudo e scendo. Srotolo la colonna, salgo, apro, chiudo e scendo. Qui andiamo a lavorare ovviamente con il gluteo ma anche molto con la parte esterna sempre per il discorso che ti dicevo prima di rinforzare proprio la fascia alata che è comunque uno dei muscoli principali per andare poi a sostenere l'articolazione del ginocchio. Stringo, stringo. L'importante appunto è sapere sempre che esercizi fare quindi puoi allenarti benissimo anche se hai dei dolori o delle rotture, fratture. Metti di nuovo l'elastico che ripartiamo. Quindi se anche appunto hai avuto delle lesioni meniscali, lesioni comunque legamentose, nel 90% dei casi puoi comunque allenarti senza doverti magari operare oppure nel caso in cui ti operi avere un ottimo recupero grazie appunto agli allenamenti funzionali mirati quindi in modo personalizzato. Quindi non fatti a caso perché non vale farli a caso ma devono essere appunto personalizzati. Comunque spostati qui lateralmente, piede bene a martello, stringimi forte la pancia, il piede bene parallelo. Ok, plank e tocco spalla quindi secondo esercizio. Andiamo giù. Se non ce la fai dal plank puoi anche appoggiarti e fare questo. Ok, altrimenti su. Ok, stringi, stringi, mantieni stabile la posizione. Qui i piedi sono a martello, uniti possibilmente, che spingono distante. Vai, ispiro, fuori aria, stringo, stringo bene la pancia e andiamo. Ancora 10 secondi. Andiamo, andiamo qua. Spostamento bene laterale. Mano, mano, spalla, mano, spalla. Andiamo, andiamo. Ok, andiamo con il crunch e tocco il ginocchio esterno. Quindi andiamo a lavorare con gli obliqui. Quindi se puoi notare con quattro esercizi abbiamo lavorato praticamente un po' con tutto il corpo. Andando ad alternare parte bassa, parte alta. Ok, questo ecco è il mio metodo di lavoro ed è quello che faccio in wonder training. Quindi stringo bene addome, porto la mano esterna al ginocchio. Risucchio l'addome. Vai, allungati bene lateralmente. Mantieni, mantieni stabile il core. Vai, andiamo ancora. Cinque secondi. Ispiro, fuori, ancora. Ok, ultimo esercizio. Ponto e più, apro e chiudo. Anche questo fatto bene è un ottimo proprio esercizio. Quindi piedi bene in appoggio, srotolo, apro, chiudo e riappoggio. E ancora salgo, apro, chiudo e scendo. Ancora salgo, apro, chiudo e vado giù. Uno, due, tre e scendo. Salgo. Gluteo bene stretto. Quindi quando sali contrai anche il gluteo in modo attivo, in modo da lavorare ancor di più. Rilassami le spalle, stringimi qua sempre l'addome. Vai, core stabile. Fai lavorare bene le cosce e il gluteo. Ok, stop. Come ti dicevo prima, puoi ripetere questi due circuitini e soprattutto poi, se vuoi insomma iniziare una programmazione, un percorso con me, con una programmazione personalizzata, clicca al link per scoprire Wonder Training, che è l'unico e il solo programma personalizzato al 100% che ti preparo io personalmente, che puoi fare anche se hai dolori, tensioni da qualsiasi parte del corpo e che ti fa raggiungere i tuoi obiettivi, i risultati che vuoi ottenere in completa sicurezza e ovunque tu ti trovi. Un abbraccio e ti aspetto nel mio programma. Ciao!